Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per questa nuova gara diciamo semi malata un po' difficilina ma non più di tanto ragazzi articolate race 2 anche perché c'è la prima di questa gara questa gara l'ho creata io non so in quanti siamo partiti in 7 e 8 però adesso vediamo come come si propone questa questa garezza insomma come dicevo è una gara creata da me ragazzi la trovate sul social club di rockstar e niente pronti per partire pronti per partire vediamo un attimino se riusciamo a arrivare primi anche perché se non riesco a arrivare prima su una gara mia è una vergogna ragazzi eh allora andiamo eh schiaffiamo subito la prima persona perché qui mi serve la prima persona andiamo andiamo qui c'è un pezzettino un po' bastardo ragazzi un po' difficile che si arriva a testa in giù e poi bisogna eccolo qui fatto fatto perfetto per ora adesso tutto bene siamo in prima posizione vediamo che cazzo si può fare vediamo 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 bene bene così a terra sopra la piattaforma ok perfetto sulla piattaforma c'è poi il tempo a distante però va bene dai passiamo al warride ragazzi il warride che col cazzo ce l'ho fatta che col cazzo ce l'ho preso di muso il warride in quarta posizione già come cazzo è possibile va bene andiamo avanti cercamo di recuperare qualcuno vediamo che si può fare qui se lo sta in campana all'uscita del tubo perfetto insomma non tanto perfetto però ok ok mi lampeggia la terza posizione veniamo veniamo in quarta non capisco sta cosa però vado salto del dirigibile ragazzi perfetto come come se non fosse successo nulla sfondiamo tutto qui porca miseria e andiamo avanti qui c'è l'altro saltino perfetto così seconda posizione qualcuno si è addobbato ragazzi qualcuno si è addobbato io non me ne sono neanche accorto però probabilmente qualcuno si è addobbato bella così fino a qua ragazzi tutto cala ho parlato comunque manteniamo il controllo rimaniamo in pista perfetto così seconda posizione devo andare no terza posizione ragazzi e non capisco quando me passano sti tizio ci ho capito un cazzo a me comunque andiamo avanti vediamo di fare questo giro della morte ragazzi vediamo di fare questo giro della morte in maniera decente di solito metto la prima persona metto la prima persona perché quando mi trovo in questa situazione la maggior parte delle volte è sbaglio però sembra che qui stiamo andando bene sembra che qui stiamo andando bene vediamo vediamo e invece non siamo andati tanto bene ok ripartiamo terza posizione ragazzi giro spirale altra spirale e ok adesso c'è questo tubo del cazzo tubo del cazzo speriamo che qualcuno si addobba oh si sono addobbati i primi due meno male no vabbè quando uscirò dal tubo vedremo la posizione ragazzi perché non ci sto a capire più un cazzo primo terzo primo secondo terzo vediamo un attimino questo è un tubo a salire ragazzi di quelli proprio cazzuti non finisce quasi quasi più non lo so qui andiamo avanti andiamo avanti ok non così non così speriamo che non esplode vediamo 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 ma dovrei esplodere in teoria in teoria non dovrei esplodere ok perfetto botta di culo ragazzi grande botta di culo di solito non lo faccio in quella maniera il tubo lo faccio a riscendere però così sembra che è andata per fortuna che c'era il checkpoint per fortuna andiamo a respawnare va vediamo e ci avviamo alla conclusione del primo giro in prima posizione ragazzi conclusione del primo giro in prima posizione e giro della morte perfetto abbiamo appena terminato il primo giro eccolo qui ragazzi e ripartiamo guardiamo un attimino vedo che qualcuno ha abbandonato boh vabbè prima persona di nuovo e rifacciamo il pezzo maledettissimo ok perfetto ragazzi perfetto continuiamo il nostro tragitto senza senza cercare di sbagliare perché qui eh massa ho ho appena finito di parlare appena finito di parlare se vogliamo ah c'ho un bucio di culo io poi me la tiro da solo me la tiro quindi che ve spiego comunque ragazzi spero che questa cara magari andrete a giocarla sul social club che vi piaccia non è proprio di quelle malate malate però insomma non è neanche tanto semplicissima da fare quindi vediamo fin qua tutto bene ok aia 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 che culo che mi ha detto che sto cascato dentro al tubo la donammo usata va bene va bene va bene così prima posizione ancora ci siamo anche perché sarebbe deludente ragazzi arrivare non trovo pure ultimo ehi bell'atterraggio di quelli proprio sullo sportello vediamo qui se facciamo se facciamo il salto dirigibile filo filo quasi filo filo ragazzi quasi filo filo andiamo avanti ho fatto strike con i bilini perfetto perfetto meglio di prima la curva meglio assai migliore saltino e ole qui ci abbiamo il giro della morte ancora un'altra volta e andiamo avanti speriamo di atterrare bene sulla rampa quasi di sotto quasi di sotto però va bene così va bene così meglio di prima meglio di prima ragazzi meglio meglio perché parlo perché parlo oddio non è niente di irreparabile però perché parlo andiamo avanti l'acqua qui mi ha rallentato un pochino comunque va bene va bene manteniamo sempre la prima posizione e dicevo comunque riguardo a questa cara ve la potete scaricare tranquillamente sul social ragazzi e spero che la giocherete che vi piacerà che magari la potrete giocare con qualche amico oddio non ho fatto tantissime care però qualcuna c'è insomma se andate sul social a parte che lasciate stare quelle che ho fatto con i glitch nel senso per i glitch più che altro perché ho creato qualche attività per sperimentare i glitch dei soldi però insomma del resto ci stanno qualche garetta c'è ragazzi qualche garetta carina l'ho creata spirale spirale ok vediamo qui adesso il tubo un'altra volta che col cazzo ho preso la rampa in maniera giusta vediamo e andiamo ragazzi andiamo mettiti dritta sali sali adesso cercherò ragazzi di prenderlo in maniera più più cazzuta dal tubo a scendere nel senso che come lo so sali cercherò di scendere nel senso addosso alle pareti speriamo vediamo di riuscire a fare sta cosa che è un po' è un po' problematica però perché non si capisce un cazzo quando si arriva alla fine del tubo che mi sono scordato un check direzione sbagliata prima non me l'ha scritto un po' sì boh vabbè vediamo 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 bella nooo si è staccata la macchina so caduto un'altra volta spero che non esplode oddio non mi ha detto manco stavolta manco tanto male va bene 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 ragazzuoli andiamo avanti me la sento già in pugno la cara capriole 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 e qui mi deve dar il bonus mi deve dar gli rp oh voglio gli rp voglio solo per tutte le capriole che ho fatto mi deve dargli rp perfetto ragazzi questo è l'ultimo rettilineo e fatto questo ho vinto la gara ho vinto la gara era un pochino che non portavo qualche gara adesso l'ho riportata spero che vi piaccia detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti